Ieri ero già qui in comune a fare tutte le nomine, a nominare la giunta, a fare tutti gli adempimenti perché così come avevo promesso noi si diventavano operativi dal giorno dopo quindi è la seconda mattinata che mi trovo. Nemmeno il tempo di festeggiare che Gianni Bennati già pensa al governo di Monte San Savino il neoeletto primo cittadino della lista 52-048 Rinansci che ha avuto l'appoggio di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia nell'ultima tornata elettorale ha ottenuto il 33,14% dei voti una vittoria al fotofinish con lo scherto solamente di 12 voti su Antonio Marzullo. Noi faremo di tutto per cambiare Monte San Savino già iniziando da stamattina io ho già fatto alcuni provvedimenti per quanto riguarda il decoro del centro storico già da questa mattina e questo è il nostro scopo, noi se chiesto i voti per questo motivo già da subito ci muoviamo in questo senso. Bennati è dunque già al lavoro, la giunta è già pronta e a breve sarà presentata. Per correttezza finché non sono stati ratificati non vengono diciamo così esternalizzati ma già sono stati nominati ieri mattina. Prima di tutto l'abbiamo anche detto, noi ora studieremo il riassetto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, chiederemo un incontro con la 6 dopo che abbiamo studiato per bene quella che potrebbero essere le prospettive future quindi uno dei nostri obiettivi è questo qui ma ripeto in 100 giorni non penso di fare due cose pensiamo di farne tante visto che noi non abbiamo avuto problemi né di scegliere una giunta né di formare una giunta né di formare una squadra quindi siamo in condizioni già vedete dalla mattina dopo a essere qui ad amministrare.